Allora, come tutti voi sapete, stasera il Presidente della Repubblica terrà il suo consueto messaggio di auguri agli italiani per il nuovo anno, messaggio a reti unificate. Per Sergio Mattarella sarà l'ultimo messaggio del suo settennato e tutti naturalmente lo ascolteremo con particolare attenzione, perché è un messaggio che cade in un momento particolare, un momento in cui siamo di nuovo di fronte ad un'emergenza dovuta alla variante Omicron, quando tutti noi ci aspettavamo ormai una discesa verso la normalità, ma è anche un messaggio che coincide con l'avvio della procedura per l'elezione del nuovo Capo dello Stato. E questo naturalmente accentua la particolarità del discorso che Mattarella terrà questa sera. Ne parliamo con due colleghi che da anni seguono il Quirinale, il Presidente Mattarella, sono Massimo Franco del Corriere della Sera e Angelo Piccariello di Avvenire. Buongiorno ad entrambi. Salve, grazie dell'invito. Allora Massimo, cominciamo con te. Tu che cosa ti aspetti da questo discorso di Mattarella di stasera? Mi aspetto un discorso di congedo nel quale credo che in qualche modo Mattarella rivendicherà quello che è stato fatto, ma soprattutto chiederà al Paese di continuare su una strada della responsabilità che in fondo ha dimostrato negli ultimi mesi. E quindi c'è un problema di garantire una continuità rispetto a quello che è stato fatto ultimamente, dopo una parte di legislatura nella quale il ruolo del Quirinale, come sempre nei momenti di crisi, si è fortemente dilatato e ha portato forze fortemente anti-europee populiste dichiaratamente a rientrare nell'alveo della Costituzione. Lì il ruolo del Capo dello Stato è stato fondamentale. Sono perfettamente d'accordo. Se guardiamo all'avvio di questa legislatura, tutti abbiamo notato che c'era in Parlamento una forte maggioranza anti-europeista. Se ci troviamo ad affrontare un momento così difficile per il Paese, fra pandemia che ritorna e crescita, che bisogna incentivare col più grande europeista che ci sia nel continente, qualcosa è avvenuto. Non è avvenuto d'amblè, non è avvenuto improvvisamente, è avvenuto effettivamente attraverso quell'opera che si suol dire maieutica del Capo dello Stato. Ha messo alla prova proprio i partiti più anti-europei, cioè M5S e Lega, li ha messi insieme, li ha messi alla prova del governo. La prova della realtà probabilmente fa riflettere. La democrazia parlamentare per fortuna consente di queste evoluzioni. Ma nessuna imposta da Mattarella, sempre suggerite dalla realtà, però con un ruolo guida di Mattarella di arbitro per la verità, che si è ben notato. Ci vediamo il sonoro di Nadia Zikoski, che era qui rinalista del Tg1, sui messaggi degli ultimi anni del presidente Mattarella. Il richiamo alla responsabilità delle istituzioni e dei singoli cittadini con una bussola, la Costituzione. È la cornice che potrebbe contenere tutti e sei i discorsi di fine anno di Mattarella, probabilmente anche quello che sta limando in queste ore. A rileggere la prima esortazione, il cuore dell'intervento del dicembre 2015, si trova subito il filo rosso dell'intero mandato. Tutti, scriveva Mattarella, devono prendersi cura della Repubblica. Una frase che poi riprenderà nei tempi più bui della pandemia, quando questa ha rischiato di mettere in ginocchio la sanità e il paese. Lo Stato si è preso cura dei cittadini, ragionamento che a loro volta si devono prendere cura dell'Italia. Nel 2016 quello di Mattarella è un nonnetto alla violenza verbale, quella che circola sui social facendone un ring permanente, quella politica che alla fine arriva alla società e come la prima la intossica. Resterà questo un richiamo costante che passerà attraverso la nascita di quattro governi. Nel 2017 manca poco alle elezioni, l'attenzione alla neutralità del ruolo, ma è mancata, diventa ancora più marcata. Il voto è una pagina bianca, le parole saranno gli elettori a scriverla. L'invito a farlo è per i più giovani, i ragazzi del 99 che per la prima volta accedono alle urne e che, questo è il paragone storico, come i ragazzi di 100 anni prima, dopo Caporetto, sono chiamati a dare un futuro al paese. 2018 è il discorso dell'Italia che ricuce, nelle sue parole la distinzione profonda tra buonismo e buoni sentimenti. Sono i secondi a rendere migliore la società e non bisogna vergognarsene. Nella cronaca politica il 2018 è l'anno della richiesta di impeachment da parte dei 5 Stelle. L'Italia che non cede alla retorica del declino è il dicembre 2019. Il capo dello Stato esorta il paese ad avere fiducia nelle proprie risorse, ad impegnarsi per l'interesse comune. In molti già lo fanno, il pensiero spesso in silenzio. Vi è un'Italia, spesso silenziosa, che non ha mai smesso di darsi da fare. Il messaggio per le istituzioni è molto diretto. Le decisioni che devono essere prese devono avere due caratteristiche, essere adeguate e tempestive. Il paese è davanti ad un'emergenza senza precedenti. Lo Stato è chiamato a superarla senza termini di paragone. Nel discorso di fine 2020 la speranza, parola mai mancata nei due anni più difficili, viene definitivamente associata alla scienza e ai vaccini. Io mi vaccinerò appena possibile dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza. Fa fatica, lo dice Mattarella, a trovare le parole giuste. Per i cittadini che hanno perso moltissimo affetti, sicurezza, lavoro, quelle per le forze politiche escono più incisive. Questo è il tempo di costruttori. È il tempo di trovare convergenze in nome dell'unità morale e civile degli italiani, insomma quella maggioranza, alla quale quest'anno Mattarella ha riconosciuto di aver saputo lavorare, per lo più nella medesima direzione. Fra l'altro, Angelo, oggi Famiglia Cristiana esce con una copertina, molte pagine, dedicate a Sergio Mattarella, lo definisce l'italiano dell'anno. Ecco, è così anche se come in una partita di calcio, quando l'arbitro diventa protagonista, non sarebbe o non è buon segno. In effetti io credo che Mattarella oggi tenderà a dire l'esatto contrario, che i protagonisti sono stati gli italiani e credo che ringrazierà anche le forze politiche, c'è da aspettarselo, per aver avuto il coraggio di assumersi una responsabilità, superando anche grandi diversità di visione in un momento molto difficile. Il problema è che questa fase emergenziale non può essere, diciamo, prolungata ulteriormente. Questa elezione del Capo dello Stato richiede un'assunzione di responsabilità. Oggi noi pubblichiamo un'intervista a Guido Bodrato, in una serie di interviste che sto cercando di fare con vecchi saggi. Guido Bodrato ci ricorda che il problema è trovare una maggioranza, non che arrivi questo o quello a risolverci il problema. Draghi ha risolto il problema in un momento complicatissimo, in cui le forze politiche non trovavano una via d'uscita, c'è stato un appello drammatico di Mattarella, ma ci siamo di nuovo, ci siamo di nuovo perché la pandemia incombe e perché naturalmente questa elezione del Capo dello Stato con la fine della legislatura che si avvicina richiede uno sforzo di responsabilità ulteriore e per il momento non ce ne sono ancora i segnali. Io volevo tornare sul bilancio, che insomma avremo tempo di farlo, ma insomma però possiamo già cominciare a farlo, un bilancio di questo settennato. Voglio dire, una delle culture politiche fondamentali del nostro Paese, cioè quella cattolico-democratica, ha fornito alle istituzioni un uomo come Mattarella, nella fase in cui, come dicevi tu prima, la Presidenza della Repubblica ha assunto un ruolo via via sempre più centrale, come non era nel passato, sempre più centrale a causa della crisi della politica, dei partiti, eccetera. Beh, in questo contesto un uomo cattolico-democratico come Sergio Mattarella ha dato un contributo di grandissima saldezza istituzionale. Non pensi, Massimo? Io penso che in effetti sia stato, come lui diceva degli italiani, un costruttore. Credo che Mattarella abbia avuto come bussola il fatto di riportare ogni potere, compreso il Quirinale, all'interno del proprio ambito. E questo è qualcosa che ha rispettato molto e che spiega anche il suo no all'idea di un prolungamento del settennato a termine, perché lo ritiene sia improprio dal punto di vista costituzionale, sia inopportuno anche proprio per il fatto che avverrebbe in un momento di particolare tensione e tra l'altro non ci sono, credo per adesso, le condizioni politiche, perché noi abbiamo un centrodestra che ha già un suo candidato e quindi non credo che questa sia un'ipotesi al momento molto verosimile. Certamente Mattarella rappresenta una cultura istituzionale politica che, primo, è molto aderente ai principi e valori della Costituzione, secondo, molto aderente alle alleanze europee e alla Nato, terzo, un rispetto degli ambiti nei quali esercita le sue funzioni. Noi dobbiamo pensare una cosa, che in questi sette anni ci sono stati passaggi traumatici. Se noi pensiamo al 2018, il Movimento 5 Stelle di Maio, siccome non riuscivano loro a fare il governo con la Lega, amminacciò addirittura di metterlo in stato d'accusa, una cosa folle, ecco. Quello che noi abbiamo visto, da allora in poi, sempre, Mattarella è riuscito a portare le forze politiche verso soluzioni concordate, senza che nessuno sia stato in grado di accusarlo di parzialità. e credo che il vero miracolo in un'Italia così riuscosa sia questo. In questo Moroteo, eh? Sì, devo dire, molto Moroteo, anche se non ha mai avuto, in realtà, la verbosità di Moro. È stato sempre... Ma più raccontata che vera, la verbosità. Sì, però, insomma, erano altri tempi, diciamo questo. Erano altri tempi, però Mattarella rappresenta quella cultura a cui giustamente ti riferivi, ma ricordiamoci anche che è sempre stato, prima ancora di andare al Quirinale, molto appartato e fuori dai giochi politici. E questo gli ha permesso poi di essere presentato come un candidato che in qualche modo facesse, avesse un'immagine di arbitro, cosa che poi ha dimostrato nei fatti, a mio avviso. Senti, Angelo, l'ultima considerazione su quanto in realtà, su quanto è stata importante la connessione che il Presidente Mattarella è riuscito a stabilire con il Paese, anche con quelle aree del Paese che forse sono in questo momento più lontane dalla politica, penso per esempio ai giovani. Sì, noi ci troviamo al cospetto di una politica selezionata sui social. Ci sono anche delle statistiche che potrebbero documentare questo. una ricerca che feci nel 2012 portava al vertice della presenza sui social delle persone che non erano degli esponenti politici che non erano ancora i leader in quel momento ma lo sarebbero tutti diventati. Ecco, quello che è interessante di quello che dicevi, cioè che lui ha stabilito questa sintonia col Paese è che non si è trattato di una sintonia effimera e non si è trattato di un amore a prima vista perché non è esattamente Mattarella il prodotto che verrebbe fuori da un intruglio partorito dai social. Certo. Non è un uomo di... Anche se non dimentichiamo che Mattarella è anche uno che padroneggia comunque la comunicazione è stato direttore politico del popolo è appassionato di questi temi quindi ha avuto sempre in tutte le situazioni anche in tutti i discorsi la capacità di trasferire un messaggio. Però voglio dire la sintonia che effettivamente ha stabilito col Paese simboleggiata un po' da quell'applauso della scala non è una sintonia effimera è come quella che siamo abituati a vedere di leader che nascono improvvisamente altrettanto improvvisamente precipitano perché diventano un po' prigionieri degli stessi slogan che li hanno portati Il riconoscimento di valori costanti se non effimeri come dici tu. Bene credo che ci dobbiamo fermare perché dobbiamo dare la linea al telegiornale grazie Massimo Franco grazie Angelo Picarello auguri auguri non ci resta che aspettare il discorso del Presidente 20 e 30 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti